Ci troviamo a Colombella, precisamente in via Macerata, questa è una piccola frazione del comune di Perugia e torniamo a parlare del maltempo e soprattutto dei danni che il maltempo dei giorni scorsi ha recato a queste piccole frazioni. Una vera e propria bomba d'acqua, così l'abbiamo definita, che ha provocato dei danni veramente ingenti nei pressi delle abitazioni. Nei giorni scorsi si è parlato molto della zona dei ponti, dunque Ponte Felcino, Ponte Pattoli, si è parlato di Villa Pitignano dove sono state evacuate nove famiglie da una palazzina, ma forse non si è parlato di Colombella e specie in questa via, noi siamo stati contattati dai residenti di via Macerata, è successo qualcosa di veramente grave perché lo andremo a vedere tra poco, si è aperta una voragine sulla strada. Esatto, sì, diciamo che questa per noi è la terza volta che siamo inondati dall'acqua di questo fosso maledetto e a differenza delle altre volte questa bomba d'acqua ha fatto sì che da questa strada venisse un fiume d'acqua incredibilmente enorme che come vedremo poi ha causato danni sia alle strutture pubbliche che quelle private inondando di acqua e fango tutte le case, dobbiamo buttare via tutti gli elettromestici un'altra volta e nessuno qui si è visto, quantomeno guardi queste qui l'abbiamo messe noi dopo l'intervento dei pompieri perché una macchina stava cadendo dentro il fosso per transennare questa situazione. Neanche inizia di una transenna. Quindi di vostra spontanea iniziativa ora noi scavalchiamo, avete transennato da cittadini accorti questa strada. Sì, diciamo che la prima striscia l'hanno messa i pompieri che quando sono venuti a tirare fuori la macchina che era lì in panne, una sola striscia e poi noi siccome c'era il vento l'abbiamo rinforzata perché credevamo che comunque in breve tempo sarebbero venuto qualcuno a mettere due transenne come in tutti i posti del mondo, invece abbandonati.